Ecco te in aria, la terza rete della Virtus Castelfrentano ad opera di Gianluca Malbone, il numero 9, Gianluca Malbone fino adesso ha realizzato una doppietta, 3 a 0, questo è il primo gol del secondo tempo e 2 nel primo tempo, 3 a 0 a favore della Virtus Castelfrentano che sta vincendo con la Valle Aventino di Fara San Martino, il mister ha dato l'ordine alla panchina di riscaldarsi, si riscaldano Enrico e Alessio. Ecco il primo Enrico, un'altra azione della Virtus, Lele che si trova sulla linea, ha recuperato il pallone, però angolo, angolo a favore della Virtus Castelfrentano. C'è Alessio che si sta riscaldando, c'è anche Nicola, il mister Nicola di Campri, in versione ha detto all'atticolo oggi, ma sempre tutto fare, ha gonfiato i palloni, Cristian stava effettuando una rovesciata. Cristian, Cristian.